Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Piave condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è giovedì 14 febbraio e Luigi Guglielmi vi accompagna nella lettura dei principali titoli dei quotidiani di oggi. Cominciamo da una pagina del Corriere della Sera che ora vi mostro per la precisione. Siamo a pagina 25 del fascicolo nazionale del Corriere della Sera dove si propone un approfondimento intitolato Malghe da salvare dal pascolo delle antiche vacche burline al restauro delle trincee della Grande Guerra così il FAI vuol far rivivere la montagna. Si dice, si parla, si dà conto della presentazione prossima del progetto Alpe l'Italia sopra i mille metri, piano decennale di interventi che si rivolge all'Italia su quella quota dalle Alpi agli Appennini eccetera eccetera. Il FAI le chiama le nuove periferie perché abbandonate dagli abitanti e modificate nei panorami. I boschi, dice l'articolo del Corriere della Sera, si sono impadroniti di molti alpeggi abbandonati e il FAI, il Fondo per l'Ambiente italiano intende avviare piani di restauro e di recupero di questo tipo di architetture, insediamenti come li vogliamo chiamare. Fatto sta che si parla anche della provincia di Belluno perché come vedete una delle foto piccole si riferisce a Quero e perché? Perché lo spiega l'articolo il FAI parte dai quattro beni alpini in suo possesso ma altri tre verranno annunciati sabato. La Malga di Fontana Secca sul Monte Grappa a Quero, Belluno, il Pascolo di 200 ettari sulle Alpi Pedroria, scusate ma non conosco questi nomi, Madrera e Talamona, Sondrio, il Mulino Seicentesco di Roncobello in Val Brembana, Bergamo, Il Maso, Fratton, Valaia a Spormaggiore, Trento. Ecco mi fermo qui però si fa riferimento ancora appunto al modello proposto che parte proprio dalla Malga di Quero, dalla Fontana Secca dove torneranno a pascolare le antiche vacche burline, verrà riattivata la produzione casearia tradizionale, verranno restaurate le trincee della grande guerra sull'alta via degli eroi. Insomma oggi sul Corriere della Sera vi segnalo questa notizia di interesse locale bellunese anche oltre che generale. Sul Corriere della Sera vi segnalo anche nella prima parte del giornale vediamo se, ah sì ecco l'ho passato adesso, segnalo anche al pubblico dell'Amico del Popolo di Radio Piave un approfondimento, lo vedete qui per chi ci segue su Facebook, sui social, politica, religiosi super partes, Francesco ai Gesuiti del Centro America, oggi i nostri popoli sono sottoposti a colonizzazioni ideologiche e culturali. Il Corriere dice anticipiamo ampi stralci della conversazione di Francesco con i Gesuiti del Centro America avvenuta il 26 gennaio durante il viaggio del Papa a Panama in occasione della 24esima giornata mondiale della gioventù. Proprio nei giorni di permanenza del Pontefice a Panama tra l'altro era riesplosa la crisi in Venezuela. Il testo della conversazione viene pubblicato nel numero in uscita della Cività Cattolica a cura del direttore padre Antonio Spadaro e qui si prende uno stralcio insomma di questa conversazione del Papa ai Gesuiti del Centro America, ve lo segnalo. Andiamo però a vedere la prima pagina del Corriere di oggi perché, un attimo che vediamo se riesco a raggiungerla agevolmente senza farvi perdere troppo tempo, eccola qui, in prima pagina di fatto il titolone è riferito a conte, attacchi scomposti, c'è il lancio di questa notizia sul Papa ma c'è anche il lancio della notizia relativa al percorso sull'autonomia che riguarda proprio in prima istanza il Veneto e c'è un ampio approfondimento del giornale dedicato proprio a questo tema. Pagina 4, il giorno dell'autonomia che divide gli alleati, stasera il governo esamina le tre bozze d'intesa, c'è la compartecipazione di imposte, la protesta del Sud. Poi ci sono i pareri, Giovanni Toti dalla Liguria, è la strada giusta, noi la seguiremo, il mezzogiorno non è minacciato, Michele Emiliano dalla Puglia, a Nord andranno molte più risorse, un'occasione persa, così ci fermiamo. Ci sono grosse tensioni su questo tema, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi. La pagina 5 è dedicata a tutta il Veneto, praticamente con una foto grande in cui si vedono Zaia e il ministro Stefani che è stato il riferimento, ministro per gli affari regionali, Veneta è stato il riferimento, leghista è stato il riferimento in questa trattativa, il titolone è quota di tasse alle regioni, il gettito è extra, resta sul posto, ma i 5 stelle frenano. Il documento prevede una verifica ogni due anni dei fabbisogni. La questione è piuttosto complicata, per come si sono viste le anticipazioni già da ieri sui giornali, sulle agenzie, quindi vedremo adesso di capire di più questa sera cosa passa in consiglio dei ministri, perché sarebbe comunque un processo lungo e articolato, come è inevitabile che sia. Sempre Corriere della Sera, saltiamo a pagina 10 dell'inserto del Corriere che è il Corriere del Veneto nell'edizione di Belluno e Treviso e vediamo quali sono i titoli di oggi della pagina dedicata a Belluno. La provincia a Gordina sicura, si parla della strada della 203, muraglione antifrane per Bries, in costruzione opera da 300.000 euro dove precipitò il masso di roccia. L'articolo è a firma di Moreno Gioli e approfondisce i fatti dopo la conferenza stampa che c'è stata ieri mattina sui lavori che saranno necessari nella zona dove è caduto il masso. La foto mi stupisce perché davvero poco significativa o poco comprensibile, quella che hanno scelto sul Corriere del Veneto di oggi, perché si vede l'asfalto, si vede la tabella di un cantiere, si vede l'asfalto con un scomposto, insomma vicino a un tombino. C'è la strada, si vede questo asfalto un po' scomposto, ma non è che si spieghi bene cosa è successo lì. Lì è il punto dove il masso rimbalzando è caduto dopo aver schiacciato la Suzuki Jimny del proprietario della casa sfiorata dal crollo. Insomma c'è il cartello del cantiere della regione dove appunto inizieranno i lavori. Chi ci segue in diretta vede ciò di cui sto parlando. Una notizia che ieri nel vuoto praticamente di notizie finisce per diventare importante ed è arrivata anche sui giornali nazionali, si tratta, mi pare di capire però, di un fatto del tutto marginale, tamponamento tra le cabine, due sciatori feriti, l'impianto di risalita sul Civetta, nell'incidente sono rimasti coinvolti bambini e adulti, forse per il ghiaccio pare c'è stato un fatto strano, cioè l'impianto col dei baldi, pian di pezzè, ha avuto un problema perché una cabina si è bloccata e l'altra praticamente l'è andata addosso e insomma viaggiano a una discreta velocità quindi insomma non doveva succedere, diciamo che pare che la società minimizzi nel senso che non è stato nemmeno necessario, dicono ricorrere a riparazioni, si è trattato probabilmente di qualcosa legato alle condizioni meteorologiche, insomma così pare. Nuova funivia di Staunie si invista intesa a Faloria, regole d'ampezzo, ieri avevamo letto su questo, Falcade, pista degli innamorati, Celestini sabato al comunale, vi leggo il titolo di spalla, PAT da creare il PD al comune, studi locali esclusi dal bando di gara, oggi nel capoluogo è tempo di consiglio comunale, tra i punti all'ordine del giorno la surroga del consigliere della lista in movimento Massaro Sindaco Luca Salti che si è dimesso pochi giorni fa l'istituzione della commissione consigliare speciale. Sul Nevegalma si parlerà anche della tempesta di fine ottobre e più specificamente delle risorse destinate alla ricostruzione grazie al punto dell'ordine del giorno fatto inserire dal gruppo consigliare del PD. Il tempo intanto ci sfugge ma volevo mostrarvi che cosa c'è in prima pagina, cioè il discorso dell'autonomia in prima pagina sul Corriere del Veneto inserito del Corriere della Sera il titolone è appunto autonomia accordo sulle tasse perché questo sarebbe il punto a quanto pare cardine su cui ora la trattativa può andare avanti, cioè sarebbe stato raggiunto come già leggevamo prima l'accordo sulle tasse, non so come procedere per le tasse. Lasciamo questo giornale e andiamo a vedere che cosa mette in prima pagina oggi il Corriere delle Alpi. Il Corriere delle Alpi parte, titola in grande proprio sui fatti di Agordo, sul masso e su ciò che ieri è stato annunciato nella conferenza stampa. Una muraglia di 6 metri proteggerà le case a Bries. Iniziati i lavori per realizzare lo sbarramento in terra lungo 120 metri destinato a bloccare i massi. Il cantiere andrà avanti per due mesi, i residenti non possono ancora fare rientro nelle abitazioni. Vi preannuncio che questo sarà anche il tema lanciato in prima pagina dall'Amico del Popolo, vista l'importanza del problema, vista l'importanza dell'investimento e dell'intervento che la provincia adesso si appresta a realizzare e visto anche che stiamo parlando di persone che sono costrette fuori dalle proprie case a causa di questo grave problema di instabilità geologica. Vi leggo il lancio. In prima siamo sul Corriere delle Alpi. Un muraglione protettivo alto 6 metri, tecnicamente un rilevato para massi bifacciale in terre armate, largo 7, lungo 120 metri. Pensate, un muraglione da 6 metri lungo 120. 7... vabbè qui c'è una ripetizione, hanno sbagliato sul Corriere delle Alpi, la fretta quando si compone la prima pagina, magari per ultima la conosciamo noi giornalisti, non ci meravigliamo di certo. Questa è la soluzione che il geologo Nicolò Doglioni ha proposto alla provincia e di conseguenza al comune di Agordo per mettere in sicurezza la località Bries dove il 2 febbraio, era un sabato, un enorme masso di circa 11 metri cubi ha raggiunto il centro dell'ex strada regionale 203 a Gordina distruggendo un'automobile ma evitando le abitazioni. I lavori di costruzione del vallo sono iniziati ieri, serviranno circa due mesi salvo non si verifichino condizioni meteo avverse con cui i tempi potrebbero in parte dilatarsi e nel frattempo i residenti delle abitazioni minacciate dal disastro dovranno restare lontani dalle loro case. Ancora titoli di questa prima pagina del Corriere delle Alpi. Belluno una rimonta da sogno contro il Chions e parliamo di sport, grandissime emozioni nel recupero di serie D giocato al Polisportivo. Belluno rimonta il Chions dopo una partita incredibile, Friulani in vantaggio 2-0 dopo soli tre minuti. Poi arrivano le reti bellunesi, non fatemi dire, i nomi con una squadra ospite che fallisce il 3-3 sbagliando un calcio di rigore nel secondo tempo. Anche qui erroretti di battitura refusi in prima del Corriere, evidentemente un po' di fretta all'ultimo minuto. Alleg, c'è anche qui il tema che abbiamo visto sul Corriere, tamponamento tra due cabine, in columi quattro sciatori, Valdizoldo, Palaghiaccio, c'è il progetto per rifare la copertura, lavori sul Piave, Belluno, nuovi argini per 1.4 milioni, un milione e mezzo praticamente. La copertura del suo stadio di ghiaccio, forse non ricorderete perché sono fatti che risalgono a parecchio tempo fa, era saltata in occasione di una delle grandi nevicate degli anni scorsi. Anche qui in prima autonomia, prima bozza i ministri, le regioni del sud alzano le barricate e scorrendo appunto il giornale troverete ampi approfondimenti su questo tema, scorrendo il Corriere delle Alpi. Dunque vi dico, le prime pagine sono dedicate al discorso della TAV che potrebbe avere conseguenze, il blocco eventuale in Francia potrebbe avere conseguenze anche nel Veneto, gli imprenditori, i politici, Zaia stesso temono molto questo tipo di scelta voluta invece dal Movimento 5 Stelle e pagina 10, si apre qui l'approfondimento del Corriere delle Alpi sulla questione dell'autonomia. Abbiamo pochissimo tempo, faccio in tempo a mostrarvi i titoli della prima di Belluno, del Gazzettino e saltiamo la prima del Nazionale che ovviamente dà spazio al tema dell'autonomia, non può che essere così. Il titolone con cui l'articolo, il Gazzettino oggi apre è Villaggio al mare, la diocesi deve pagare Lici, Cavallino Treporti vince in Cassazione, otterrà 84.000 euro. Scontro, panico in cabino via, questo è il titolo grosso della pagina del Gazzettino di oggi, poi un muro paramassi a difesa di Briese. Voltago si ferma per l'ultimo saluto all'ex sindaco. Con questo è tutto, vi saluto, vi auguro una buona giornata, seguiteci su Radio Piave e anche su www.amicodelpopolo.it. Ciao a tutti.